Dopo un'accurata ricerca abbiamo ricavato alcuni dati statistici molto interessanti sull'uso quotidiano ai cellulari nella vita di noi adolescenti. Il 62% dei giovani non presta attenzione quando attraversa. Il 43% dei giovani ha colpito un palo a causa della distrazione dovuta all'utilizzo del telefono. Il 41% dei giovani ha avuto un incidente legato all'uso del cellulare. Sono 33 le vittime annuali a causa dell'utilizzo del telefono. Il 20,1% ha avuto un incidente stradale sempre a causa del telefono. La media delle ore passate al telefono sta aumentando. È diventata di 3 ore e un quarto al giorno e per noi adolescenti è di 4 ore. Per rendere meglio l'idea di quanto il cellulare ormai sia entrato a far parte della nostra vita abbiamo voluto fare un paragone fra il mondo di ieri e il mondo di oggi. A voi le riflessioni. Pronto mamma? Eh sì, no, ti volevo dire che oggi non torno a casa a pranzo. No, perché esco fuori con gli amici. Grazie. Qualcune testimonianze che abbiamo raccolto. Quante ore al giorno usi il cellulare? Dipende principalmente dai giorni, in particolare lo uso durante il weekend per organizzarmi con i miei amici. Sto attaccato tutto il tempo della colazione, sull'autobus alla fine starò tipo 6 ore a giornata all'incirca. Forse per le chiamate mezz'ora e poi i giochini nell'arco della giornata un'altra mezz'ora diciamo, quindi un'ora. Cosa usi specialmente il cellulare? Allora, il cellulare lo uso per giocarci, molto spesso ci sono giochi molto divertenti. Anche sui social network io tengo molto il mio Instagram, infatti penso di avere un futuro da fashion blogger o lo stesso da opinionista. Ogni tanto uso i social network tipo Facebook oppure Instagram e Whatsapp ovviamente e raramente per giocare. Lo uso, ci gioco, stavo giocando poco fa però ho rinunciato a Facebook, Whatsapp e vari canali perché ci stavo troppo tempo.